Cari amici di Visione TV, benvenuti a una nuova puntata del nostro programma della sera dietro il sipari. Oggi parleremo di un tema di scottante attualità, un tema importantissimo perché intorno a questa questione possiamo interrogarci sul destino stesso di una umanità dolente, schiacciata tra le ragioni della forza e quelle del diritto. Israele è stata trascinata di fronte alla Corte Penale Internazionale dell'AIA dal Sud Africa, accusata senza tanti giri di parole di genocidio, immagine quanto mai precisa e calzante di fronte allo sterminio pianificato di un numero incredibile di civili palestinesi, tra cui migliaia di bambini. Ecco, Israele in genere gode di ottima stampa ma in questo caso non sono riusciti completamente ad occultare una realtà che fa semplicemente orrore. Vi presento i miei ospiti a partire dall'ambasciatore Bruno Scapini, grazie per essere con noi. Buonasera, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Stefano Orsi Buonasera a tutti, buonasera e grazie per l'invito. Roberto Quaglia Buonasera, grazie per l'invito, un saluto a tutti. Primo servizio ricostruisce i fatti sempre ad opera della brava e brillante Lily Gold. Sudafrica contro Israele. Alla Corte Internazionale di Giustizia dell'AIA è iniziato il processo per genocidio a Gaza. Oggi e domani la prima udienza pubblica. Nella sessione di questa mattina ha parlato l'accusa rappresentata da una delegazione di avvocati diplomatici e politici, tra cui il ministro della giustizia sudafricano Ronald Lamola. Domani saranno ascoltate le controargomentazioni difensive del team legale dello Stato ebraico, guidato dall'ex capo della Corte Suprema israeliana Aaron Barak. La due giorni si concentra sulla richiesta di indicare misure provvisorie per prevenire ulteriori danni alla popolazione palestinese, contenuta nella più ampia denuncia depositata il 29 dicembre dal Sudafrica, che accusa Israele di violazione della Convenzione sul Genocidio adottata dalle Nazioni Unite nel 1948. Questo significa che la Corte potrà pronunciarsi in tempi brevi, qualche settimana secondo le ricostruzioni della stampa internazionale. Al momento è chiamata infatti a dire se l'esercito israeliano deve cessare o meno il fuoco nella striscia, indipendentemente dal riconoscimento ufficiale o meno del presunto crimine di genocidio, che sarà trattato nel prosieguo del processo, in tempi ben più lunghi. Se la Corte accoglierà la richiesta del Sudafrica, le misure da essa indicate saranno legalmente vincolanti. Tuttavia aspetta agli Stati attuare le decisioni della Corte, poiché quest'ultima non dispone di mezzi coercitivi. Se un Paese rifiuta di applicare un verdetto, l'unico meccanismo percorribile rimane chiedere al Consiglio di Sicurezza ONU di approvare una risoluzione. Triestino Marigniello, professore di diritto alla Liverpool John Moores University e membro del gruppo di giuristi della Corte Penale Internazionale per le vittime di Gaza, spiega a Palestine Chronicles che la scelta di Israele di comparire davanti alla Corte per contrastare le accuse del Sudafrica giudicate e infondate da Tel Aviv non è scontata e implica la possibilità per altri Paesi di unirsi ai contro ricorsi. Secondo Human Rights Watch, la causa del Sudafrica ha il sostegno di Bangladesh, Bolivia, Giordania, Malesia, Maldive, Pakistan, Palestina, Turchia, Namibia, Nicaragua, Venezuela e Paesi dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica. All'elenco, in mattinata, si è poi aggiunto l'Iran. Il segretario di Stato americano Anthony Blinken ha definito il procedimento privo di merito. Sulla stessa linea, il ministro degli esteri inglese, David Cameron, che ha detto, non credo che sia utile, non sono d'accordo, non credo che sia giusto. Allora, noi non siamo nati ieri e sappiamo che le ragioni del diritto, spesso, quasi sempre, ammantano e provano ad edulcorare quelli della forza bruta. E la forza sta dalla parte di Israele, degli Stati Uniti e dell'Inghilterra. Però sul piano morale, sul piano etico, sul piano della critica, del tentativo di muovere delle coscienze di fronte ad una operazione che definire barbarica è un eufemismo, anche questo tentativo non va disprezzato. Ambasciatore Scabini, che probabilità ci sono, diciamo, realisticamente, di vedere approvata in maniera ufficiale una condanna per genocidio, che cadrebbe come un macigno sulla legittimità dello stesso governo di Israele in tempi rapidi? In linea teorica, la possibilità di una condanna ci potrebbe essere, ma sappiamo bene che nel diritto internazionale c'è una componente politica che è molto, molto forte. E tra l'altro questa componente politica la possiamo vedere anche nella composizione della Corte Internazionale di Giustizia, perché c'è una procedura per quanto riguarda le nomine dei giudici e naturalmente viene disatteso quel principio di diritto interno del giudice naturale precostituito per legge. Per cui la procedura di nomina dei 15 giudici della Corte dell'AIA è una procedura molto complessa che risente molto delle influenze politiche degli stati membri, non solo dello statuto della Corte dell'AIA, ma anche degli stessi interessati dei paesi coinvolti. Io credo che l'importanza dell'iniziativa del Sudafrica sia enorme, sia, devo dire, forse epocale, perché portare sul banco degli imputati un paese come Israele, tra l'altro un paese che è stato vittima del genocidio della Shoah, del grande genocidio del secondo conflitto mondiale, anche se non è stato il primo genocidio, perché non dobbiamo dimenticare che c'è stato nel 1915 il genocidio degli armeni ad opera dell'allora impero ottomano. Però anche qui c'è una memoria calda e una memoria fredda. Si può parlare di una geopolitica del genocidio, ma comunque questo ci porterebbe un po' lontano dalla direzione di marcia di questo nostro appuntamento di oggi. Io certamente come previsioni la vedo difficile, anche perché la procedura della Corte internazionale dell'AIA è una procedura che impegna tempi lunghissimi. Si esplica attraverso varie fasi e di conseguenza quello che io penso è che si possa arrivare prima ad una soluzione per la questione palestinese, anziché ad una sentenza di condanna di Israele. Sentenza di condanna che tra l'altro sarebbe un trauma dal punto di vista storico e identitario per Israele e che quindi vedrei anche edulcorata questa sentenza in qualche modo, se dovesse esserci. Il fatto è che bisogna fare una duplice valutazione, c'è una valutazione di merito per quanto riguarda il processo per l'accusa di genocidio, ma c'è anche una valutazione sul piano strategico procedurale. Come dicevo prima c'è una componente politica nel diritto internazionale, sempre, per cui io vedo che questa componente strategica assume un ruolo importante in tutte le cause internazionali. Perché bisogna tenere conto dell'attinenza nazionale dei giudici e bisogna tenere conto delle procedure interne, delle scadenze dei vari mandati dei giudici, soprattutto per un caso come questo che stiamo oggi affrontando per l'accusa di Israele di genocidio, che è un caso complesso e che comporta procedure su tempi lunghissimi. Quindi gli stati interessati devono fare nell'amore del processo delle valutazioni non solo sul merito, e cioè sull'accusa, sulla prova della colpevolezza di Israele, ma anche una valutazione strategica su quelli che saranno i giudici nel corso del tempo che interverranno nel giudizio. E questo è un aspetto che va valutato in questi casi nelle mode stesse del processo, perché la situazione può cambiare. Ci può essere la dimissione di un giudice che è stato nominato in una Camera di giudizio e di conseguenza questo può comportare delle conseguenze anche in termini di delibera. Ecco perché io farei questa distinzione tra la valutazione del merito e la valutazione strategico procedurale. Ripeto, le previsioni per me sono che si arriverà prima, forse lo spero, ad una soluzione della questione palestinese, anziché arrivare proprio alla sentenza della corte dell'AIA. Ecco, anche perché passando molto tempo rischieremmo di non vederne più palestinese nella stessa di Gaza, perché siamo a quasi 30 mila morti civili, non so quante centinaia di migliaia di sfollati, prossimamente a stare a dare retta alle parole di alcuni ministri del governo di Israele, altrettanti deportati. E forse di fronte a un governo genocidiario sarebbe il caso, anche per il governo italiano, di chiudere i rapporti diplomatici. Perché mantenere un canale di dialogo con un popolo accusato di genocidio? Si può immaginare di riprendere rapporti diplomatici con un nuovo governo, con una nuova componente, ma con questo forse è abbastanza imbarazzante continuare a relazionarsi. Voglio chiedere a Stefano Orsi, che è un attento osservatore di questioni militari, se e perché quello che sta facendo l'esercito israeliano nella striscia può tecnicamente definirsi un genocidio sistematico? Può definirsi genocidio perché noi ci troviamo di fronte a quello che viene chiamato il fuoco indiscriminato. Sono molti i video di distruzione di strutture civili dalla radice, non solamente verso le parti da cui si spara contro le forze israeliane. Abbiamo interi quartieri rasi al suolo, abbiamo video in cui i soldati israeliani sparano a civili palestinesi con le bandiere bianche che cercano di abbandonare la zona, uno che ho visto recentemente ancora una madre col bambino a cui veniva sparato. I filmati purtroppo sono migliaia in tal senso. Il numero stesso dei civili uccisi nell'unità di tempo nella quale è iniziata l'operazione militare ci dice che non c'è un'azione attenta per limitare il numero dei morti civili, c'è al contrario un'azione fortemente indirizzata al massimizzare il numero di queste vittime per far obbligare la popolazione civile a spostarsi e andarsene da quella zona. Di fatto la distruzione ha raggiunto un tale livello che la zona nord di Gaza è sicuramente inabitabile anche se venisse abbandonata dall'esercito israeliano e se sospendessero tutte le operazioni militari. Siamo quasi a 25 mila morti civili, se ben ricordo, dopo poco più di tre mesi. Ricordo che nel conflitto, ad esempio in corso tra l'Ucraina e la Russia i morti civili sono circa 10 mila in due anni. Ora capite bene che c'è un divario in questi numeri che è veramente enorme e questo ci dice dove si stia operando un conflitto con riguardo nei confronti dei civili e dove invece vi sia un conflitto con accesa attenzione a causare vittime tra i civili, perché i numeri sono esageratamente grandi. Io sinceramente non mi ricordo un conflitto anche recente che abbia causato così tante vittime in così poco tempo tra i civili. In Siria siamo nell'ordine delle centinaia di migliaia di vittime, ma in qualcosa come 13 anni ci avviamo verso il tredicesimo anno di conflitto e oltretutto negli ultimi anni è calato molto. Nella stessa guerra civile ucraina che si era svolta dal 2014 al 2022 c'erano stati circa 14 mila vittime in tutto, quindi anche lì spalmati su molti anni, ma in soli tre mesi 25 mila o 23 mila che siano, sono veramente un numero che passa all'immaginazione. La richiesta di intervento da parte della Corte Internazionale dell'AIA di Giustizia, da parte del Sudafrica, tra le altre cose è appunto divisa in due parti, proprio per la ragione che diceva l'ambasciatore Scapini, che è divisa da un lato per la parte riguardante il genocidio e per l'altra per una risoluzione cautelativa della popolazione chiedendo l'immediata sospensione delle operazioni militari, per la quale dovrebbe esserci una delibera molto più veloce in tal senso. Israele punta a, tra le altre cose, ha accettato di entrare in giudizio, quindi ha formato il suo collegio difensivo e rigetta ogni tipo di accusa. Nella maniera più assoluta, come diceva giustamente nel servizio prima, è singolare la posizione di Blinken, anche se si è già schierato dicendo e avvisando quindi di conseguenza che non c'è assolutamente nessun tipo di merito nelle accuse che sono state mosse a Israele. Vorrei sentire in tal senso se invece non sia anche sotto processo, da questo punto di vista, la stessa corte dell'AIA di fronte al mondo, che deve prendere posizione per la prima volta contro un paese alleato e amico degli Stati Uniti e se il suo comportamento è ciò che delibererà potrebbe determinare anche il futuro stesso della permanenza di molti paesi firmatari del Trattato di Roma all'interno della Corte Internazionale di Giustizia, se potrebbe addirittura mettere fine questo caso alla sua esistenza, così come è oggi. Sì, questo è un elemento molto interessante, questo che pone all'attenzione di tutti noi Stefano Orsi, non abbiamo bisogno di giudici corrotti che provano a negare sul piano giuridico ciò che è evidente sul piano fattuale, quindi se i giudici dell'AIA servono lì per mettere in piedi una pantomima che alla fine assolvi Israele e regala una nuova verginità al governo di Netanyahu, gli occhi del mondo se ne accorgeranno, non basteranno molte carte bollate per coprire tutti i cadaveri che sono stati colpiti e sono stati determinati in quei territori. Roberto, la Corte dell'AIA era così solerte nel spiccare mandati di cattura nei confronti di Vladimir Putin, accusato di essere non un ladro di biciclette ma di bambini, invece in questo caso è quasi stata tirata stancamente per la giacchetta dal Sud Africa dentro questa vicenda scandalizza e preoccupa il posizionamento degli Stati Uniti d'America che coprendo di fatto un genocidio dimostra il governo degli Stati Uniti d'America di essere pronto a replicarlo su scala più larga, io non so se il mondo può più continuare a ignorare l'esistenza di un mostro, il cosiddetto egemone benevolo, che si dichiara nei fatti pronti a sterminare l'umanità intera in preta ad una isteria apparentemente filo progresso e filo democrazia. Hai detto bene tu, hanno detto bene quelli che hanno preceduto negli interventi, è un momento importante perché molti nodi vengono al pettine. L'Occidente ha da tempo questa abitudine, ha sviluppato questa abitudine col Tribunale dell'AIA di giudicare e condannare le persone, diciamo gli soggetti che esso sconfigge sul campo, perché evidentemente militarmente più forte, lo ha fatto in passato con Milosevic, però non lo fa mai per i propri crimini. Noi se andiamo a fare un bilancio dei morti provocati dagli Stati Uniti, morti in Iraq, è celebre al suo tempo la dichiarazione che Madeleine Albright fece quando, che era appunto un funzionario americano, quando un certo segretario di Stato americano, quando le dissero che mezzo milione di bambini iracheni erano morti a causa appunto delle sanzioni americane e le chiesero se ne valeva la pena e lei disse ne valeva la pena. Quindi noi vediamo un Occidente che storicamente ha causato una quantità di morti che è un multiplo di quelle appunto causate da chi che sia nel mondo negli ultimi decenni e che non ha mai avuto alcun tipo di problema alla corte dell'AIA. Adesso è per la prima volta, e questo è molto interessante e quindi ripeto quello che aveva detto appunto l'ambasciatore sull'importanza del gesto del Sudafrica, per la prima volta adesso c'è un accusato occidentale, mettiamola così. Però visto che noi abbiamo capito da tempo che il Tribunale dell'AIA come detto non serve a fare giustizia, ma serve a dare un certificato di bontà, di superiorità morale ai vincitori, che oltre a sconfiggere i suoi avversari, li vuole anche bollare come cattivi, cioè che è un fenomeno appunto iniziato dopo la Seconda Guerra Mondiale. Adesso verranno al pettine i nodi appunto di questa farsa, perché essenzialmente si tratta di un teatro, di un grande teatro, perché come ha detto anche giustamente Orsi alla fine del suo intervento, se la corte dell'AIA a questo punto non si comporta nel modo in cui la maggior parte del mondo ritiene che debba comportarsi, perché il giudizio miliardi di persone l'hanno già formulato nei loro cuori, nelle loro menti, non dimentichiamocelo, perché in Occidente noi abbiamo una popolazione divisa tra quelli che seguono i media e che hanno una percezione diciamo molto distorta della situazione, però comunque anche in Occidente abbiamo manifestazioni di centinaia di migliaia di persone abbiamo avuto in Inghilterra a favore appunto dei palestinesi. Però nel resto del mondo le popolazioni sono praticamente all'unisono a favore dei palestinesi bombardati. Quindi noi adesso avremo appunto una corte dell'AIA che sarà alla prova del fuoco per reggere l'opinione di miliardi di persone nel caso appunto dovesse diciamo decretare in modo differente da quello sentito da miliardi di persone. Quindi potrebbe veramente essere l'inizio della fine della corte dell'AIA, come d'altra parte ognuno di questi passi si presenta come un passo verso la fine non solo dell'egemonia americana, ma proprio dell'egemonia di tutto il sistema occidentale a base anglosassone, che perde credibilità, fiducia e rispetto agli occhi della vera comunità internazionale. Quindi quell'80% di mondo che noi non consideriamo mai non marginalmente. Questo è un fatto che serve, è un processo contro l'Occidente paradossalmente, non contro Israele, contro le strutture dell'Occidente, la credibilità dell'Occidente e la stessa Corte nazionale. Quindi o lo capiscono per tempo e compiono l'impensabile, quindi fare giustizia effettiva, ammesso che questo sia possibile, oppure probabilmente accelereranno la disintegrazione del sistema occidentale, del sistema di valori e di crediti internazionali che all'Occidente. Questo lo diciamo secondo me. C'è poi un piano geopolitico che non va trascurato. Di fronte al metodo che è stato scelto da Israele per dirimere una questione che non nasce ieri, credo che tutti i popoli del mondo debbano interrogarsi se è possibile continuare a fare finta di non vedere la potenza e l'atteggiamento di un Paese che possiede anche bombe nucleari e che dimostra di non farsi scrupolo, di essere assolutamente sordo di fronte alle richieste del mondo, che chiede un approccio meno sanguinario di fronte ad un problema politico che non è il risultato di un evento casuale, ma che si trascina oramai da decenni. Il secondo servizio, sempre di Lilligoriup, entra nel merito delle richieste processuali avanzate dal Sudafrica e della risposta dei difensori di Israele. Nel tendere le nostre mani al popolo palestinese lo facciamo con la piena consapevolezza di essere parte di una sola umanità. Ha citato Nelson Mandela, il ministro della giustizia sudafricano, rivolgendosi alla corte dell'AIA in apertura dell'udienza durata in tutto tre ore. La prima richiesta mossa ai giudici è stata quella di ordinare un immediato cessate il fuoco a Gaza. Poiché il concetto di genocidio implica l'intenzionalità nella distruzione di un gruppo nazionale, raziale o etnico in quanto tale, in seguito i delegati del Sudafrica hanno argomentato che i presupposti per la violazione della convenzione sul genocidio da parte di Israele si riscontrano in uccisioni e distruzione di massa, distruzione del sistema sanitario, sfollamento forzato di circa l'85% dei palestinesi di Gaza, fame diffusa, disidratazione e violenza riproduttiva inflitta ai danni delle donne e dei neonati palestinesi. Un altro avvocato ha sostenuto che l'intento genocida è stato ripetutamente dichiarato dagli stessi vertici politici e militari israeliani, in quanto è radicato nell'idea che il nemico non è l'ala militare di Hamas, bensì è incorporato nel tessuto della vita palestinese a Gaza. Al termine dell'udienza c'è stata una conferenza stampa in cui i delegati hanno specificato di aver ricevuto mandato dal governo del Sudafrica allo scopo di rappresentare le istanze della popolazione palestinese e non di Hamas contro gli eccessi dello stato di Tel Aviv e non contro la popolazione ebraica. Domani sarà sentita la controparte israeliana. Alla notizia della denuncia avvenuta il 29 dicembre il portavoce del ministero degli esteri israeliano, Lio Arayat, aveva replicato. L'affermazione del Sudafrica è priva di una base sia fattuale che legale e costituisce uno spregevole sfruttamento della corte. Hamas, che ha cercato di commettere un genocidio il 7 ottobre, è responsabile delle sofferenze dei palestinesi nella striscia di Gaza, usandoli come scudi. Israele agisce in conformità con il diritto internazionale e sta facendo ogni sforzo per limitare i danni ai civili. Ecco, intanto ci sta per raggiungere il direttore della luce.it Davide Piccardo, non so se è già arrivato, insomma lo stiamo... ecco, ci sei Davide, ci senti? Ecco, e buonasera. Ciao, grazie per essere con noi. Stavamo ragionando sull'apertura di questo processo per genocidio nei confronti di Israele. Qual è la tua prima impressione rispetto a questa iniziativa del Sudafrica? Beh, innanzitutto penso che si tratti di un fatto storico che abbia un valore in sé, cioè indipendentemente dall'esito di questo procedimento che è incerto, perché noi sappiamo bene che queste istituzioni internazionali, benché siano poi composte da magistrati che dovrebbero far prevalere esclusivamente il diritto, poi in realtà sono soggette a moltissime pressioni di carattere politico da parte degli stati. Ci sono degli equilibri molto delicati e la composizione stessa della Corte riflette poi storie diverse, interessi diversi dei paesi che possono trovarsi a votare in base ad alleanze o in base alla preoccupazione di vedersi poi applicato un certo tipo di criterio, decisione a loro stessi, alle loro stesse politiche. Posso fare numerosissimi esempi in questo senso, ma a prescindere da ciò io considero veramente che il fatto che lo Stato di Israele, che è uno Stato che nasce nella sua propaganda, nella sua dichiarazione di intenti come soluzione per un popolo a lungo perseguitato, che questo Stato venga finalmente portato di fronte a una Corte internazionale accusata, essendo accusato di un genocidio, ovvero del crimine che gli ebrei hanno subito nel Novecento, mi sembra un fatto estremamente rilevante. Significativo non solo del fatto che l'entità del crimine compiuto a Gaza è mostruosa, perché Gaza e la popolazione palestinese sono stati colpiti in questi decenni numerose volte da bombardamenti massicci, da violazioni di tutti i tipi dei diritti umani, però una cosa di questa entità non si era veramente, francamente non si era mai vista, però è indicativo anche secondo me del fatto che il vento a livello internazionale anche per Israele sta cambiando e Israele deve fare i conti con questa nuova realtà prima che sia troppo tardi, secondo me. Scapini, è interessante questo dato, il mutamento degli equilibri internazionali con i primi cenni, i primi vagiti di questo mondo multipolare dopo 30 anni di dominio incontrastato americano forse producono anche effetti collaterali di questo tipo. Condivide questa analisi? Sì, condivido l'analisi del mio predecessore nell'intervento, perché effettivamente a prescindere dall'esito di questo processo davanti alla Corte dell'AIA, però il fatto stesso che sul banco degli imputati ci sia un paese come Israele e sappiamo bene la forza politica, economica, finanziaria che ha, è rilevante ai fini soprattutto di riorientare l'opinione pubblica nella comunità internazionale. Non dimentichiamo che la Corte Internazionale di Giustizia è una corte che nasce per dirimere le controversie tra gli stati e non per accusare o condannare atti di singoli individui. Quindi la Corte dell'AIA, la Corte Internazionale dell'AIA ha questo grosso effetto strutturante sull'opinione pubblica internazionale ed è importante questo proprio perché può incidere sul riorientamento degli equilibri. Oggi sappiamo bene che il mondo occidentale sta attraversando una crisi identitaria e quindi c'è quest'altra parte del mondo che sta alla ricerca di un nuovo ruolo da contrapporre all'Occidente. L'Occidente purtroppo è ancora legato su delle premesse politiche ed economiche ormai superate. Abbiamo praticamente la schiavitù di quello che io chiamo il capitale globalizzato ed è questo capitale globalizzato che purtroppo decide sulle nostre teste, ma non solo sulle nostre teste, sulle teste addirittura dei nostri stessi governanti e questo è il grande pericolo. Ecco perché credo che indipendentemente dall'esito del processo dell'AIA, l'iniziativa del Sudafrica avrà un grosso impatto, anche se si arriverà secondo me a un compromesso perché una condanna fucur di Israele non la vedo molto probabile, ma vedo molto probabile una sorta di compromesso e come dicevo io prima in premesse nel mio intervento iniziale probabilmente si arriverà prima alla soluzione della questione palestinese che non alla sentenza della corte internazionale dell'AIA, anche perché il Sudafrica nella mora del processo chiede che ci siano delle misure di prevenzione, di contenimento dell'allargamento del conflitto, sono misure provvisorie e come quello che accade quando nel diritto interno noi ci rivolgiamo al tribunale per chiedere la sospensiva di un atto in attesa della sentenza definitiva. Questo credo che sia un passo molto importante per porre un freno a questa guerra e arrivare al limite ad una sorta di compromesso momentaneo. Del resto la posizione di Israele io la vedo molto delicata e anche vulnerabile per molti aspetti, come i miei predecessori hanno largamente indicato, ci sono tanti elementi dalle dichiarazioni di esponenti politici israeliani a fatti veri e propri di esecuzione sul territorio di Gaza che mostrano il contenuto stesso del genocidio o per lo meno del tentato genocidio. Perché l'accusa che si fa di Israele è di genocidio, ma potrebbe rilevare ancora di più l'accusa per aver omesso di evitare o di prevenire atti di genocidio. È il quadro di fondo pregiudiziale che viene anche in causa ed è su questo quadro di fondo pregiudiziale che sta avvenendo la guerra nella striscia di Gaza e anche l'azione dell'esercito israeliano. E su questo punto io vedo grande difficoltà da parte della difesa israeliana. Perché in questo quadro pregiudiziale bisogna tenere conto delle circostanze anche precedenti all'atto del 7 ottobre scorso. Cioè noi sappiamo bene che già Israele ha violato altre convenzioni internazionali. Esattamente la convenzione quella di Ginevra del 1907 sull'occupazione. I territori di Gaza erano sotto controllo israeliano. Di conseguenza non si può parlare di sovranità palestinese. La sovranità era già compromessa prima della guerra del 7 ottobre. E tutta una serie di condizioni e di misure adottate dal regime e dal governo israeliano hanno compromesso le libertà fondamentali del popolo palestinese. Come per esempio anche lo stesso dovere come potenza occupante a termini di convenzione. perché sono le stesse istanze delle Nazioni Unite poi a definire i territori occupati da Israele come tali. Quindi si tratta di mancata protezione, di mancata adozione da parte di Israele di tutte quelle misure che dovevano essere prese in funzione della protezione della popolazione sul territorio ritenuto occupato. Ecco che il quadro di fondo viene ad incidere e dovrebbe incidere nella valutazione dei giudici dell'Aia. Ecco perché dico che la posizione di Israele è estremamente delicata. E credo che si dovrà arrivare, secondo me, ad un compromesso di base. Questo compromesso potrebbe prevedere già una soluzione provvisoria per la questione palestinese, se è una sospensione del conflitto oppure altre misure che sarebbero indicative di una volontà da parte israeliana di restituire ai palestinesi di Gaza la loro primitiva condizione di esistenza su quel territorio. Stefano, sono stati coraggiosi questi esponenti del governo sud-africano? Perché noi conosciamo un po' anche i metodi che in passato gli israeliani, tramite dei servizi segreti, hanno spesso utilizzato per minacciare, impaurire i nemici e blandire i potenziali amici. Per cui, insomma, dobbiamo riconoscere che hanno avuto davvero molto coraggio nel portare di fronte agli occhi del mondo una vicenda di questo tipo con questa evidenza. Nel frattempo sono completamente sparite dalle pagine di tutti i giornali, ma in stream che oggi titolavano su vicende lunari, la Repubblica sul nazismo, il Corriere sulle liti tra Fratelli d'Italia e la Lega, il Fatto su Salvini. Nessuno ha messo in prima pagina oggi la vicenda di Israele processato con l'accusa di genocidio. Questo vuol dire qual è il livello del giornalismo italiano. Sì, chi è? Sono Davide Piccari. Sì. Volevi dire qualcosa prima che facessi una domanda, Stefano? No, sì, voglio dire che non in prima pagina. Sul Corriere Repubblica non ne parlano. Sì, sì, non ne parla. La Repubblica ne fa un accenno dentro un pastone interno, il Corriere non ne parla proprio. Questo è il livello, diciamo, anche la verità, parla di speranza, cose giuste, per carità, ma non c'è una riga su questa questione. Questo per dire che questo non è neanche giornalismo, questo è un altro mestiere, un altro lavoro. Stefano, è sparito pure qualsiasi notizia in riferimento alla guerra in Ucraina. Ecco, fino a qualche mese fa provavano a dire a Zelensky avanza, ha recuperato 100 metri, 150, adesso arriveranno altre armi. Adesso invece, evidentemente, sono stancati persino di mentire. Ecco, tu sai cosa succede lì in Ucraina? Perché non ne parlano più? Ma non ne parlano perché non ci sono buone notizie da dare, fondamentalmente. Un po' come da Gaza. Tra le altre cose, a differenza della stampa italiana, ti dico solo una cosa, che sul Washington Post non solo si parla spesso anche delle vittime ucraine, delle politiche sbagliate nella conduzione della guerra, come ad esempio il caso di Crinchi, ma anche sul Washington Post di oggi, nella versione online, c'è l'articolo di Miriam Berger che parla dei prigionieri di Gaza, inteso palestinesi, che descrivono gli abusi nei luoghi di detenzione segreti israeliani. Ricordo che tra i reati commessi da Israele vi sono quelli dei rastrellamenti operati sui civili palestinesi nelle zone occupate di Gaza, il fatto di averli umiliati e filmati, hanno filmato proprio l'umiliazione di prigionieri tenuti nelle loro mani, portati in detenzione chissà dove, nessuno sa dove siano stati portati poi questi prigionieri, che poi sono nient'altro che degli ostaggi, perché essendo dei civili tra di loro c'erano ingegneri, giornalisti e quant'altro. Anche il fatto che i giornalisti vengano trattati come fossero dei terroristi è qualcosa che riguarda anche la denuncia presentata dal Sudafrica. Mi dicevi del coraggio dei sudafricani. I sudafricani sono abituati, hanno portato avanti una lotta di decenni, una lotta anche armata contro il regime dell'apartheid, dei bianchi in Sudafrica e da questo punto di vista solidarizzano da sempre, soprattutto l'ANP con la causa palestinese. In Ucraina non parlano di nulla oramai perché, anche se ieri Zelensky era nelle Repubbliche Baltiche e anche oggi, perché non sanno come giustificare l'attuale situazione. I governi occidentali stanno abbandonando progressivamente l'appoggio all'Ucraina non tanto per una volontà o stanchezza ma per il fatto che le nostre risorse non si sono rivelate sufficienti per mettere in difficoltà la macchina, l'industria bellica russa che invece ha dimostrato una grande capacità di produzione tanto da far esaurire tutte le scorte non solo delle europee ma anche statunitensi per quanto riguarda ciò che poteva essere dato all'Ucraina anche dal punto di vista della difesa aerea. Aspetteranno quindi nuovi eventi, nuovi episodi, ogni tanto succede qualcosa e tornano a parlarne. Però rispetto a quanto succede invece in Israele le parole dell'ambasciatore Scapini sono importanti soprattutto per quando ci accenna al prima del 7 ottobre perché già altre volte ho dovuto ribadire che non esiste, non si parte nel racconto di ciò che è avvenuto dal 7 ottobre bisogna ricordare ciò che è avvenuto prima solo nelle ultime tre operazioni militari che Israele aveva compiuto contro la striscia di Gaza aveva assassinato più di 6.000 civili palestinesi i numeri ci dicono che ciò che è successo il 7 ottobre non è che una frazione di ciò che Israele ha commesso contro il popolo palestinese solamente negli ultimi vent'anni quello che succede ancora adesso causerà delle reazioni in futuro e ciò che mette più a rischio il futuro stesso di Israele sono le azioni dell'attuale governo dal mio punto di vista e rappresenta anche un pericolo per le comunità ebraiche nel mondo il governo Netanyahu in particolar modo e va fermato per questa ragione principalmente perché il suo agire sta ponendo delle fortissime diciamo come si può esprimere il concetto in forma gentile diciamo mette in forse mette in forse il futuro stesso dello Stato di Israele ecco per capirci perché le azioni criminali commesse con tale leggerezza noi vediamo dei crimini commessi come per gioco dai soldati israeliani vediamo le strutture fatte saltare in aria dicendo che sono dei regali per la figlia si filmano apertamente il governo che dice potete fare quello che volete intanto nessuno viene chiederà conto ai soldati è stato detto e me lo ricordo molto bene dagli esponenti del governo queste azioni sono un invito a commettere dei crimini il palesarle in maniera così aperta sicura di sé certi dell'impunità invece crea proprio i presupposti per minare dalle fondamenta il futuro dello Stato di Israele che così come l'abbiamo visto in questi decenni potrebbe cessare di esistere nel prossimo futuro e trasformarsi in qualcos'altro molte volte si sente parlare di due popoli e due stati cioè di due paesi per il popolo palestinese e il popolo israeliano io credo invece che al punto in cui siamo dovrà esserci una terza entità che raccolga tutte le popolazioni di questa zona sia i palestinesi che le popolazioni israeliane attuali perché al momento non c'è modo di avere un'entità uno Stato palestinese autonomo visto lo Stato di occupazione che la Cisgiordania di cui la Cisgiordania è attualmente oggetto scusami adesso Francesco ho divagato dalla tua domanda però volevo puntualizzare alcune cose molto preciso e molto chiaro Israele l'ha superato il problema dei due popoli due stati perché la loro linea è quella di farli fuori tutti di deportare quelli che non riescono a fare fuori è stato spiegato scusa l'hanno detto limpidamente alcuni ministri del governo di Israele per cui loro il problema dell'interlocutore non se lo pongono perché è difficile dialogare con un morto che non parla quindi non mi pare che sia la loro priorità quella di definire un accordo geopolitico complessivo scusami voglio aggiungere qualcosa rapidamente perché devo sentire rapidissimamente i sopravvissuti li vogliono spostare dalla striscia di Gaza in Egitto e dalla Cisgiordania direttamente in Giordania questo è palese se riusciranno a farlo in Gaza per la Cisgiordania il destino è scontato alcuni li vogliono mandare pure nel Congo la fantasia non manca anche perché sembra che il presidente del Congo sia convinto che Netanyahu sia un nuovo profeta biblico quindi è pronto ad aiutarlo Roberto si parlava prima dei giornalisti ne ha ammazzati più di 100 Israele in questo lasso di tempo un numero non irrilevante però questo non sembra indignare la categoria dei vari Mentana, Vespa forse perché evidentemente loro non sono sotto le bombe a Gaza ma sono nei loro attici comodi e ben riscaldati quindi si possono permettere di difendere Israele anche sulla pelle di quelli che fanno davvero giornalismo e muoiono sotto le bombe per raccontare la verità ma il caso più indecente forse è quello di Repubblica guidato da un bellicista fanatico come Molinari che ha il coraggio di ospitare i pezzi di un bravo cronista che si chiama Sami Al-Hayrami che testimonia da Gaza quello che succede è un giornalista al quale hanno sterminato la famiglia tra l'altro gli israeliani proprio nel corso di questo conflitto e riesce da un lato a testimoniare quello che accade con la firma di Sami Al-Hayrami per poi nella pagina successiva spiegare perché Israele fa bene ecco devo dire che forse uno psicologo servirebbe a quelli di Repubblica più che un critico letterario prego Roberto io andrei subito sullo psichiatra lo psicologo non basta un po' poco effettivamente faccio ammere un po' poco forse ci vogliono anche più psichiatri dicevo invece per rispondere a quello che dicevi tu che la classe appunto dei giornalisti come mai non si preoccupa di questa strage di giornalisti che si compie appunto in Palestina beh perché non sono giornalisti loro cioè quindi non hanno proprio niente a che fare con i giornalisti laggiù che sul campo muoiono questi come detto hanno l'etichetta di giornalisti hanno i crismi di giornalisti ma da tempo in memore ormai hanno abbandonato tutto quello per cui magari studiavano in giovine età per diventare da cani da guardia appunto della democrazia cani da guardia del potere questi usano la diciamo la penna il famoso epiteto pennivendoli calza perfettamente perché questi qui fanno i sicari per conto dei potenti attaccano chi devono attaccare difendono chi devono non hanno nessuna remora a perdere la faccia perché poi evidentemente appunto non ce l'hanno più non è un'altra parte anatomica quella che in realtà si trova sulla testa quindi in realtà è talmente abissale la differenza tra i giornalisti appunto che abbiamo noi e quelli che muoiono là che si spiega benissimo questa loro omertà c'è da dire che ogni tanto c'è qualche pentito adesso onore a quelli che operano la restipiscenza c'è il caso recente non ricordo il nome di un giornalista mi sembra proprio di Repubblica non vorrei sbagliare del venerdì che ha detto non ce la faccio più a mentire in mezzo a voi ora ti dico il nome esatto è importantissimo questo caso perché sarà un caso singolo ma dimostra che è un verminaio nel quale diciamo per pagarsi l'affitto per pagarsi il mutuo per mantenere la famiglia molte persone rimangono con il naso turato fino a quando poi non ce la fanno più ed escono ecco si è Oriani onore al giornalista Oriani si chiama che si è dimesso perché ha detto io non ce la faccio più a mentire di fronte a un omicidio a una strage di bambini così è ferata appunto appunto sbagliare è umano la restipiscenza è sovrumana quindi onore al merito quindi vabbè questo è lo stato della situazione ora vi dovrò poi salutare perché devo poi andare a un'altra parte vi saluto con una diciamo una edizione che non è ancora uscita però diciamo non uscirà mai no difficile però non è male faccelo rivedere questa prima pagina che non sarebbe male sì no perché si può anche leggere in dettagli facendo ferme immagine potete leggere magari se l'avete Molinari gli prende in colpa grazie Roberto per essere stato con noi per la cronaca fu pubblicata regolamente e legalmente 30 anni fa questo giornale quindi non è un falso mio un saluto a tutti ciao 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 Roberto torno da Davide Piccardo perché vorrei un suo commento su i tentativi di allargamento del conflitto nei giorni scorsi abbiamo visto una serie di eventi tutti significativi che lasciano intendere che ci sia la parte più fanatica dei neocon che magari tengono insieme pezzi di apparati trasversali che puntano a a fare in modo che il conflitto non solo non finisca ma semmai esploda in termini ancora più drammatici le stragi gli atti di terrorismo consumati in Iran nel giorno della commemorazione dell'uccisione del generale Soleimani sono stati davvero cruenti hanno dato la colpa all'ISIS non so se l'ISIS si muove da solo o si muove azionato a comando dai soliti noti ma questi sono dettagli e poi nel Libano Israele sta facendo di tutto per provocare Hezbollah con omicidi mirati e anche con bombardamenti fino a quando Hezbollah e l'Iran riusciranno a mantenere i nervi saldi? Allora innanzitutto la cosa curiosa è che l'ISIS non ha mai compiuto un attacco un attentato contro Israele né contro obiettivi israeliani ma ne ha compiuti innumerevoli contro gli stessi musulmani sia sunniti che sciiti è una cosa molto curiosa per un movimento di estremisti islamici che dovrebbe farci riflettere e non voglio aggiungere altro in questa sede poi voglio fare un po' come quei gruppi armati comunisti che non ammazzavano mai il capitalista ma sempre magari lavoratori sindacalisti vabbè sono cose che si capiscono prego sono cose detto ciò una breve premessa rispetto alla comprensione della logica israeliana che porta anche poi a questi grossi errori di analisi di cui si è parlato è evidente conoscendo diciamo l'escorso storico della fondazione di Israele dei padri di Israele come nel senso Ben Gurion e dell'ideologia sionista che il progetto è quello di appropriarsi di tutta la cosetta palestina storica è un progetto che è stato portato avanti a tappe e dalla leadership politica israeliana cercando di comprendere di volta in volta quali fossero le condizioni geopolitiche internazionali e quali tipo di metodi attuare in determinate condizioni quindi nel momento in cui si accetta la spartizione la iniziale spartizione dell'ONU e appunto si accetta quella spartizione si sa già e viene già dichiarato da Ben Gurion in sede più riservata che quella è una soluzione temporanea che però poi vedrà degli avanzamenti nelle conquiste territoriali l'obiettivo israeliano sionista è quello dell'espansione in tutti i modi possibili fino al raggiungimento dell'obiettivo quindi questo è reso possibile nel momento in cui si verificano determinate condizioni a volte lo si fa con la guerra a volte lo si fa con gli insediamenti colonici a volte si fa con le provocazioni si fa con gli accordi si temporeggia si vede qual è la situazione il problema è che Netanyahu e la sua cricca forse perché sono animati da diciamo non lo so da inizialmente idee messianiche da questioni più escatologiche che sfuggono alla razionalità non ha capito o non stanno comprendendo che il mondo come abbiamo detto è cambiato il mondo se non è completamente cambiato ma quantomeno sta cambiando e cambierà abbastanza velocemente e quindi come si è detto prima il rischio concreto che Israele non esista più che non è una ipotesi che mi spaventa sinceramente perché non ci tengo particolarmente allo Stato di Israele ci tengo agli ebrei come tengo a tutti gli esseri umani ma non tengo a uno Stato che è etico religioso però Davide non bisogna neanche prestare il fianco a speculazioni oppose perché una frase così può significare estrapolata come un desiderio di vedere tutti gli ebrei buttati a mare ecco naturalmente non è questa immagino la tua posizione ecco non bisogna mai assumere i comportamenti del nemico trasformandosi in quello che condanniamo ecco prego no no ma infatti ci ho tenuto a ribadire questa cosa io non tengo alla natura suprematista e violenta di Israele e ci tengo agli ebrei come tengo i musulmani e i cristiani e tutti gli esseri umani penso che comunque ormai c'è un dato storico e quindi queste sono popolazioni che si sono insediate lì e bisognerà trovare una soluzione e siamo sostenitori da tempo della soluzione dello Stato unico lo Stato unico in cui possano vivere più diverse popolazioni in pace come è stato anche in precedenza detto ciò la questione dell'allargamento del conflitto è come dire è praticamente un o la va o la spacca è un rischio a tutto nel senso che loro questa leadership prima di tutto per rimanere agganciata al potere perché sanno benissimo che un giorno che è finita la guerra se Netanyahu se ne va a casa forse pure in prigione questo non si sa ma la seconda questione riguarda le difficoltà molto concrete e forse inaspettate a questo punto che l'esercito israeliano sta riscontrando sul terreno perché vedete nel momento in cui c'è stata l'operazione di Luvio di Al-Aqsa il 7 ottobre sono stati molti a dire ma Hamas è guidata da dei pazzi suicidi che adesso hai visto cosa hanno fatto verranno rasi al suolo chi conosce bene la leadership di Hamas il pensiero la storia di un movimento come quello sa che non ci sono mosse che non sono calcolate nelle loro conseguenze la mia lettura è quella che una resa dei conti anche militare con Israele prima o poi sarebbe arrivata poteva non darsi quest'anno o nei prossimi 5 anni o 10 ma sarebbe arrivata nel frattempo la normalizzazione con gli stati arabi metteva in serissimo pericolo tutto il futuro della causa palestinese rischiando di relegarla proprio come dire nell'oscurità della storia parlo degli accordi di Abramo parlo degli accordi di Abramo della normalizzazione generalizzata con il mondo arabo e quindi Sinwar a Gaza o chi per lui insomma gli strateghi hanno deciso di accelerare questa resa dei conti e di far sì che si giocasse su un terreno deciso dalla resistenza con le modalità programmate dalla resistenza e per questo dopo tre mesi di guerra con la sproporzione di forze in campo ci troviamo di fronte a un esercito israeliano in un impasse incredibile l'altro giorno il ministero ha dichiarato che ci sono 13.000 invalidi di guerra in questo conflitto di Gaza potrebbero essere addirittura 20.000 sarebbero almeno 3.000 caduti militari non ci sono a parte la distruzione della striscia e le numerevoli 23.000 morti civili ma non ci sono successi militari importanti capi di Hamas scatturati uccisi non c'è stato nemmeno un ostaggio liberato le prospettive sono veramente nere per Israele anche perché questa è una guerra di logoramento non è una guerra convenzionale è una guerra asimmetrica pensata per logorare l'avversario e per far esplodere tutte le sue contraddizioni interne che infatti stanno esplodendo vedete cosa succede nel gabinetto di guerra tra Netanyahu e Gallant e gli altri soci le contraddizioni all'interno della società israeliana per questo Netanyahu e gli altri pensano di riportare questo conflitto su una modalità convenzionale e cercare di trascinare gli Stati Uniti in questo conflitto per questo continuano a fare provocazioni in Libano provocazioni in Iran in Siria e tutto il resto però il cosiddetto asse della resistenza muidato dall'Iran credo che questa lettura l'abbia fatta molto prima di noi e molto meglio di noi e quindi sta continuando con estrema cautela una guerra di logoramento che procede a piccoli passi ma mantenendo l'intensità alzando nel livello ma senza provocare uno shock tale da giustificare poi agli occhi dell'opinione pubblica americana o occidentale un intervento armato che peraltro gli americani non vogliono e gli europei tanto meno perché gli europei è vero che sostengono Israele però quando si è trattato di dover andare nel Mar Rosso abbiamo visto che cosa è successo con questa coalizione contro gli UTI che si è sfaldata un secondo dopo quindi ci sono tanti problemi e gli europei già se la sono presa diciamo in quel posto con la guerra russo-ucraina non credo che siamo nelle condizioni di andare a fare altre imprese militari se poi è vero non so se è un'esagerazione quello che è trapelato da Crosetto che avremmo soltanto non so nella nostra marina una sessantina di missili sì è credibile però abbiamo qualche gommone e qualche paperella che galleggia quindi questa è diciamo questa è la mia lettura della questione allargamento cioè c'è un tentativo folle di questa leadership israeliana di allargare il conflitto che veramente avrebbe delle conseguenze disastrose però io non vedo che gli americani per quanto sostengano Israele non vogliano seguire Israele su questo terreno e penso che detto ciò appunto una guerra di logoramento continuerà con un aumento dell'intensità ricordiamoci che Sbola ha aumentato notevolmente le sue capacità militari negli ultimi anni è passato a quasi più di 100.000 effettivi le capacità balistiche dei missili a disposizione sono notevoli i droni da combattimento insomma stiamo parlando di una realtà molto diversa quella 2005-2006 è un contesto regionale un contesto internazionale è molto diverso io credo che se ci fosse una leadership saggia in Israele cercheremmo una soluzione politica e se noi avessimo un governo che fa politica e che fa politica estera noi cercheremmo di porci di nuovo come interlocutori come mediatori in quel contesto ecco insomma ma noi non abbiamo una classe politica noi abbiamo una classe di replicanti che ascolta quello che ordina il padrone americano e ripete quello che ha appena ascoltato ecco noi abbiamo avuto in politica estera un darwinismo al contrario siamo passati da Aldo Moro a Luigi Di Maio va bene io vi ringrazio per essere stati con noi ad arrivare questa importante puntata torneremo naturalmente nei prossimi giorni su questo argomento che è decisivo ringrazio tutti i miei ospiti a partire dall'ambasciatore Scapini grazie grazie per l'invito saluto tutti gli altri partecipanti Stefano Orsi grazie ancora per l'invito un saluto a tutti Davide Piccardo buonasera a tutti voi è stato un onore essere con voi questa sera Davide è sempre un grande piacere anche per noi abbiamo salutato già in precedenza Quaglia sappiate che non è per nessuno impossibile provare a cambiare le cose basta impegnarsi non farsi dominare dalla disillusione non farsi convincere del fatto che c'è qualcuno che comanda sulle teste di tutti per cui venite tutti quanti il 27 e il 28 di gennaio a Roma all'hotel Ergife fonderemo Democrazia Sovrana e Popolare insieme alla parte migliore di questo paese intorno ai valori che oramai da anni difendiamo anche qui su Visione TV prenotate immediatamente il vostro posto sul sito democraziasovranapopolare.it e se volete risultare i soci fondatori insieme a me Marco Rizzo e tanti altri amici prendete la vostra tessera adesso sempre sul sito democraziasovranapopolare.it tra le mani ho l'ultimo numero del nostro mensile Visione un altro sguardo sul mondo un numero eccezionale che spiega anche per quale motivo la nostra battaglia in vista delle elezioni europee sposa la necessità di disarticolare questa Unione Europea e di rompere la moneta unica è un numero indispensabile per comprendere il mondo che cambia acquistatelo sul sito visionetv.it alla sezione shop o visioneeditore.it tutto il nostro lavoro è il risultato delle vostre libere donazioni se avete apprezzato questa puntata se apprezzate la nostra linea se pensate che sia importante non spegnere una voce come Visione TV aiutateci con bonifico Paypal o abbonandovi sul nostro sito www.visionetv.it perché noi non abbiamo altri finanziatori esterni non prendiamo soldi dai grandi magnati non abbiamo pubblicità vogliamo servire soltanto la gente che crede in una informazione libera al servizio se possibile della verità per come noi la intendiamo grazie ancora a tutti voi una buona serata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti